Che lei era per Valerio Verga il candidato ideale alla presidenza della Repubblica, siccome c'era proprio preghiera, la prego lo legga, la prego lo legga, io lo leggo il messaggio. Lei era il candidato ideale e poi invece Ciro D'Avellino le scrive, scrive anzi, onorevole Gofferati, è necessaria la costituzione di una forza a sinistra del PD. Il suo contributo sarebbe importante e utile per ricostruire la vera, scritto tutto maiuscolo, sinistra in Italia, è pronto a scendere in campo? Ringrazio per la stima e per l'affetto, ma penso che Mattarella sarà un ottimo presidente ed era il candidato ideale in questa circostanza. Ho molta fiducia in lui, per come l'ho conosciuto anni addietro, è una persona rigorosissima, sobria, di grande serietà. Poi per quanto riguarda la sinistra c'è un lavoro da fare insieme, io da mia parte sono disponibile a farla, però insisto con l'ordine delle priorità che ho raccontato prima. Dobbiamo discutere dei valori. Cos'è oggi una sinistra moderna? In un'Europa dove la popolazione è in crisi, in Grecia riesce a malapena ad entrare in Parlamento, in Spagna si è ridotta, in Ungheria è scomparsa a vantaggio di una destra estrema pericolosissima. Dunque bisogna parlare dei valori, qual è l'elemento di identità che offriamo a milioni di persone che hanno voglia di vedere riconosciuti non soltanto le loro esigenze in politiche efficaci, ma anche che qualcuno parli al loro cuore. Poi le politiche discenderanno dai valori. Mi è chiaro il metodo, lei sa che ultimamente si parla di Turborenzi, invece voi che tempi avete, che tempi immaginate? Storici come sempre. Guardi, non bisogna un progetto vero, non bisogna condizionarlo alle scadenze politiche. Poi è evidente che se nel 2016, come penso, ci porteranno a votare, bisognerà avere una soluzione per rappresentare la sinistra, ma una soluzione che sia coerente con il progetto che si sta discutendo. La realizzazione del progetto è più lontana, guai a farsi prendere dalla...